Non importa da quanto tempo siamo fotografi, amatori o professionisti, poco importa. Esistono dei momenti, delle situazioni in cui rischiamo ancora dopo tanti anni di fare la figura dei novellini. Oggi vado a raccontarvi quelle che secondo me sono 5 di queste situazioni potenzialmente a rischio dove rischiamo non solo di fare una cattiva figura sul momento, ma rischiamo anche un contraccolpo sulla nostra attività, che sia la mancata consegna di un lavoro o il mancato pagamento. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia da diversi anni e oggi vi racconto 5 problematiche che riscontro molto frequentemente nel mio lavoro. Le riscontro da parte mia e quindi quando me ne accorgo cerco di metterci una pezza. Le riscontro anche da parte di altri professionisti o amatori, miei amici o colleghi e le riscontro anche lato clienti. Per cui vi consiglio in ogni caso di guardare questo video fino alla fine perché sicuramente ne trarremo delle conclusioni interessanti. Vi ricordo anche se non siete ancora iscritti al mio canale che lo potete fare subito cliccando il bottone qui sotto. Se attivate anche la campanella non rischiate di perdervi le eventuali risposte che vado a lasciare ai commenti che mi lasciate. Infatti spesso per i vostri commenti più meritevoli rispondo con dei video verticali in maniera tale da dare una spiegazione un po' più esaustiva. Molto bene, ma andiamo subito col primo punto. Una cosa molto importante che spesso ci si dimentica di fare, il fotografo se lo dimentica, il cliente si dimentica di dirlo e quindi di solito è il fotografo che deve chiederlo. È la destinazione finale. Questo vale sia per foto che per video. La destinazione finale del nostro lavoro è molto importante perché se il mio cliente vuole delle foto per Instagram è inutile che io gliele scatti con un sensore gigante, con una macchina fotografica adatta a stampare dei cartelloni 6x3. Faccio molta fatica a gestire un file così pesante, a post produrlo e a consegnarlo. Il mio cliente farà molta fatica ad aprirlo, a vedere le bozze e eventualmente a darmi l'approvazione. E faremo fatica anche a pubblicarlo perché un file così grande verrà poi compresso direttamente da Instagram. Quindi ci sono tutti dei processi che devono entrare in funzione perché sostanzialmente non si è lavorato nella maniera migliore. Se un cliente mi dice che vuole le foto per Instagram, non dico che gliele faccio col telefono cellulare, non è quello il punto. Però gliele faccio con una fotocamera con meno megapixel magari. Glieli faccio con una fotocamera con una buona resa, ma non vado a dargli un file gigante perché non ne ha bisogno. Viceversa, se il mio cliente deve stampare, che sia un magazine, un fotolibro, che sia un cartellone, devo prendere delle decisioni diverse a seconda di quella che è la destinazione finale. Per un cartellone non potrò mai scattare con lo smartphone, per esempio. Così come se devo stampare un fotolibro dovrò probabilmente dare al mio cliente un file con una risoluzione sufficiente a essere stampato. Quindi non è una cosa così immediata. Lo stesso discorso si applica ovviamente anche al comparto video. Se il mio video deve andare unicamente su Instagram, è inutile che lo giro in 8K RAW. Posso pensare di girare in 4K se va su YouTube, per esempio, così si vedrà bene anche su televisore. Lasciatemi sapere in un commento da dove state guardando questo video, se lo state guardando da smartphone, se lo state guardando da computer o se lo state guardando da televisore. Così faccio anche un breve sondaggio per cercare di capire come posso ottimizzare meglio i miei filmati. Un problema che deriva da quest'ultimo è il profilo colore di destinazione. Non ho già parlato in un video in cui ho parlato in lungo e largo dei profili colore, andatevelo a recuperare, ve lo lascio anche linkato qui da qualche parte. Nel momento in cui noi vogliamo pubblicare sui social, su internet, sul web, se la nostra immagine deve essere vista su un monitor, in generale se dobbiamo vederla su un monitor, serve il profilo colore sRGB. Invece se il nostro file deve essere stampato, molto probabilmente dovremo convertirlo in quadricromia, quindi servirà un profilo colore FOGRA 39, che è lo standard più utilizzato in questo momento. Nel momento in cui registriamo un video, invece quasi sicuramente useremo lo standard REC 709, che è quello che si usa per la maggior parte dei monitor in questo momento. Anche l'audio ha i suoi canoni e i suoi criteri, ovviamente ho pubblicato anche un altro video in cui vi parlo di come si fa a ottimizzare l'audio per YouTube e per il web in generale, andatevi a recuperare anche quello. Queste sono cose importantissime che dobbiamo chiedere noi al cliente, perché il cliente non le sa, quindi a meno che non sia un cliente che si occupa di stampa e quindi sa che deve usare il profilo colore della quadricromia, oppure si occupa magari di social e allora magari sa che bisogna usare SRGB o Display P3, altrimenti il 90% dei clienti non ne hanno la minima idea, quindi glielo dobbiamo chiedere noi perché loro non conoscono nemmeno la problematica. Un'altra cosa che gli dobbiamo chiedere, che è molto importante anche qui, non dico che facciamo una figuraccia se non lo chiediamo, però non sapere per quando serve il lavoro rischia di metterci nei guai e quindi rischiamo di passare per poco professionali, quindi secondo me è molto importante chiedere se c'è una deadline, per quando ti serve il materiale, quando è che bisogna consegnare il prodotto finito, è importante saperlo perché se è un matrimonio e quindi una volta svolto io ho magari tre mesi per consegnare i file, è un conto. Se invece il mio cliente, a me non capita quasi mai di fare matrimoni, se invece il mio cliente mi capita molto più spesso, le vuole con delle tempistiche stringenti, lì succedono due cose. La prima è che devo consegnare, la seconda è che sale il prezzo perché se le vuoi più in fretta ti costa di più. Vi faccio un esempio, quando io lavoravo per Twitter Italia, nel momento in cui mi chiedevano le immagini magari di un evento che si svolgeva lunedì e volevano le fotografie per martedì mattina, alle 6 di mattina, perché dovevano andare in stampa su... Oddio, dov'è che dovevano andare in stampa? Vanity Fair. Sì, mi pare che dovessero andare in stampa su Vanity Fair. Mi confondo tra Vogue e Vanity Fair, ma era Vanity Fair quasi sicuramente. Il punto qual è? Io devo saperlo. Quindi in quel caso siamo tutti professionisti, me lo dicono loro, avevano un ufficio stampa bestiale, quindi sapevo già tutto per filo e per segno, non gli ho dovuto fare grosse domande. Però era importante saperlo, le foto dovevano essere pronte per la mattina successiva, quindi io mi facevo la tirata e lavoravo tutta notte, ovviamente mi facevo pagare bene. Pensate cosa sarebbe successo se il cliente si fosse dimenticato di dirmelo e io non l'avessi chiesto. Io le avrei consegnate dopo due giorni, quindi non sarebbero uscite dove dovevano uscire, quindi disastro. Arriviamo al quarto punto, c'è anche il discorso del prezzo. Nel momento in cui noi non facciamo un prezzo, oppure non facciamo un prezzo chiaro, risultiamo immediatamente poco professionali, perché se l'idraulico viene a casa mia a cambiarmi un tubo, mi dice subito cosa costa. Poi io sono sicuro che costerà di più perché ci sarà una vitarella di più che non era stata calcolata e ci ha messo un quarto d'ora di più e quindi sarà sicuramente di più del preventivo, mai di meno. E noi questo non lo facciamo perché non siamo idraulici. Per cui quando diciamo una cifra, tendenzialmente quella è. Però comunque bisogna dire una cifra da subito, far vedere che si hanno le idee ben chiare su quello che vale il nostro servizio, perché il cliente ci gioca sul fatto che noi non abbiamo una vite fisica da vendergli, ma stiamo sostanzialmente vendendogli il nostro tempo e l'affitto della strumentazione che abbiamo comprato con i nostri soldi. Per cui visto che non abbiamo una merce fisica, è difficile quantificare. Se noi non siamo decisi nello stabilire un prezzo, il cliente avrà la percezione che abbiamo sparato il prezzo senza sapere quanto vale effettivamente il nostro lavoro. Inoltre è importante dirlo perché se si arriva alla consegna del lavoro ancora senza aver stabilito un prezzo, e lì è un disastro perché lì il cliente ci proverà sempre a dire ah ma io pensavo, ah ma come sei caro, allora facciamo che me ne consegni metà e te ne pago metà. Situazioni in cui non ci vogliamo trovare. Bisogna chiudere il prezzo prima e avere le idee molto chiare su quale sia questo prezzo. E l'ultimo punto che voi direte è una banalità assurda, ragazzi, non lo è. Bisogna chiedere di essere pagati. Sì, perché una cosa che non tutti sanno è che il nostro cliente si dimentica immediatamente di noi nel momento in cui gli consegniamo le foto. Ci ha scassato le balle fino a cinque secondi prima, la modifica, amica, la modifica, l'occhiaia, toglimi tre chili, rimettimi i cappelli qua, ho un pelo bianco nella barba, toglimelo, no, aspetta, ci ho ripensato, rimettimelo perché la gente mi vede sempre così, ho un riflesso nella lente dell'occhiale, ho le orecchie asimmetriche, insomma, lo sapete già. Ci hanno chiesto di tutto fino a cinque minuti prima, vi assicuro che non lo fanno per cattiveria, ma vi assicuro che nell'esatto istante in cui ricevono il prodotto finito si dimenticano di noi come per incanto, compreso il fatto che non ci hanno ancora pagato. Quindi dobbiamo chiederglielo, dobbiamo mandargli la fattura, la nota, quello che è, per chiedere di essere pagati perché altrimenti loro un po' se lo... nella maggior parte dei casi se lo dimenticano e sono in buona fede. Ci sono anche quelli ovviamente che dicono io non mi faccio più sentire, se questo qui mi chiede di essere pagato allora glieli do, altrimenti se non si fa più sentire è lui che non me li ha chiesti. Molti fanno anche così, eh. Quindi è assolutamente importante che siamo noi a chiederglielo anche perché molti clienti avendo magari un'azienda, un'impresa individuale, insomma una serie di situazioni, magari non ci pagano se non gli mandiamo la nota o la fattura. Quindi solamente quando vedono la nota o la fattura procedono col pagamento. Prima non lo fanno perché magari non hanno nemmeno i nostri dati, l'Iban, il conto corrente, codice fiscale, robe burocratiche. Insomma dobbiamo mandargli una nota con scritto quanto ci devono pagare e come ce lo devono pagare a seconda di quelli che erano e gli accordi che sono stati presi. Benissimo amici, non mi dilungo oltre, chiudo questo video facendovi una domanda. Qualcuno di voi fa abitualmente delle note per un pagamento in ritenuta da conto? Vi interesserebbe capire come si struttura un modello di una nota per un pagamento in ritenuta da conto? Fatemi sapere se questo tipo di argomenti vi interessa. Io lo trovo di una noia mortale, però se a qualcuno può interessare provvederemo a creare dei contenuti magari un po' più brevi, un po' più leggeri anche su quest'argomento. Vi ricordo che se non volete perderveli vi consiglio di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, il bottone è proprio qui sotto, i pollici ce li avete. È stato un piacere passare un po' di tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.